stasera ad amici la sfida tra i vip comincia con parrucche e musiche prima il volo sicilmente nell'imitazione dei ricchi e poveri poi tocca a luca argentero poi di nuovo a piero del volo che deve imitare fabio rovazzi con andiamo a comandare ma arriva il momento di belen che invece deve interpretare indovinate un po emma marrone la cantante un zecchio alla rodriguez a fine esibizione io però non ho la sua camminata figa argentina risponde allora dammi la tua voce emma toccherebbe la unziker ma la di filippi richiama belen sul palco la tua prova non è valida perché ti è caduta la parrucca devi esibirti ancora ed ecco di nuovo la sugar con amami stavolta però affiancata dalla stessa emma il risultato è fantastico dulcis in fondo michelle interpreta magistralmente michael jackson con tanto di moonwalk e mocassini ai piedi pertanto la vittoria è per la sua squadra ma naturalmente si parlerà soprattutto di belen e emma marrone grazie Grazie a tutti.